Amo, ciao amo, stasera mi sono ritirato presto, ho fatto il bravo, mi sono fatto una bella doccia e guarda cosa mi ho preparato per cena amo, guarda, una bella metà focaccia fatta in casa l'ho condita con la scialgiccia di noce, quelle che compram da San D'Arita, amò, due funghetti sott'olio, amò una sottiletta e poi mi faccio un bel bicchier di vino, amò, e poi me ne vado a vedere amici nel letto be' amò, buonanotte amò, ci sentiamo, ciao, ciao Michele, ci siamo, ciao, ciao amò, non pensare a me amò, ma la so cavare amò, ciao amò amò, amò, come mi sono fatto, amò, due spaghetti con le acciughe fresche, ancora un po' ti vengono a raccontare qualche cosa che ho mangiato a questo, ho mangiato a quello, due spaghetti con le acciughe fresche, saldati in badella, buonissimo beh, tu non pensare a me, amò, amò, tu pensi che i moni di fa, no, non ti preoccupi, non so che mi stai pensando, se dice, come devi fare con il marito mio, come devi fare, quindi mi sono arrangiato, beh, adesso mi sono fatto spaghetti, però nel forno stai facendo un piccolo pesce al sale, un'orata piccolina, non un'orata, un sarago, un sarago, al salamo, va bene, ciao amò, ciao, beh, dando un bacio alle amiche, ciao ecco amore, dove stiamo, dove stiamo, siamo sul draghetto, qua siamo messi, dove sei giovane, dobbiamo arrivare, qua siamo messi, vedete, poi non la metti messi, saluto, saluto, ciao, qua siamo sul draghetto, questo è un'altra parte, questo è un'altra parte, questo è messi, vedete, la spiaggia, Alla prossima! Alla prossima! Adesso partiremo, poi ci allontaniamo. Come diamo? Le macchie che si imparcono? Sono cercato di imparcare. Sono imparcate tutte le macchie. Oddio! Sono imparcare. Sono imparcare. Sono imparcare. Ci sono comandato. Ci sono comandato. Lì sono comandato. Vedete le macchine? Sì! 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 Buongiorno a tutti! Oggi è il 25 aprile. A Liberazione dell'Italia. Ma io sono libero di fare ciò che evochi. Io oggi sto a casa. Mi godo la mia famiglia. E preparo un bel pranzo per i miei figli. Un onore che c'è a casa Michele e Mariangela. Che poi ci ci pesce non mangia. Ma che mangiamo noi. Ecco cosa preparo oggi per mio figlio. due spigole allevamenti in mare. Non richiede allevamenti nelle vasche. Filetto di acciughe spizzettate fatte in pastelle. Favoloso. Come antipasto la bianchetta. Sarebbe la scume di mare. Fatevi lecchie. Vedete? La bianchetta. Bella. E per primo il piatto tipico barese. fatte da me. Nicola Gravi. Iad. Qualche io di un paese vicino. Omba. Tutto intorno intorno. Nel paese limitrofi. C'è la mia famiglia. Ieri sono re. Un re sono ieri. Patate, risa e cozza. Chi sono patate? E chi sono cozza? Eh? Aveva detto la cozza? E la patate? E poi c'è la procedura. Come viene fatta? Dà a me. 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 Allora. Così. Ricaccioliamo. Spigole. 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 Vedete le spigole? Vedete? Questi sono arrivati in mare. Non di chi. Io sono di Nicola Brescia. Com'è di me. Un picciaglio. Ciao Nicola. Grazie di avermi dato questi ieri. Eh? Vi ha dato. L'ho pagato. Eh? Poi pastelle di acciughe fresche. Spizzetta. La pastella fatta fritta. E la bianchetta. Vedete? La bianchetta? Meh. Poi stiamo preparando le uova. Vedete le uova? Vedete? Sapete? Meh. Che vi devo dire? Buon appetito a tutti. Sì. Ehi. Ehi. Assoluta. Sì. La vecchia mani. Dei mamma e non hanno. Io devo. Ciao. Buon appetito a tutti. Grazie a tutti.